Allora, cosa mi dici? Niente, tutto bene, siamo qua che stiamo aspettando il Pullman, siamo sempre a Livigno, località Forcola, campeggio Forcola, camper, area camper Forcola, sempre quella. Sempre quella. Beh, qui cosa posso dire? La comodità del Pullman che non si guarda, può fare avanti e indietro 100 volte fino alle ore 7, 7.30 ed è molto bello questo, non so la gestione che non può essere ma sono sicura che se tutti quanti utilizzassero le macchine e quindi non ci fosse il servizio alla vetta, ci sarebbe un traffico bestiale in centro e quindi questa è l'intelligenza della vita. Adesso dove vai di bello? Adesso vado a farmi un giro in centro. E poi vai al laghetto sopra? E poi andiamo a farci un giro al laghetto, vediamo un po', fino a che le gambe reggono si sale, e dal momento in cui le gambe non reggono più, basta, si torna indietro, spalle, gambe e spalle e via. Ok, ciao capitano. Ciao.